Aspetta Gohan! Aspetta, questa è la carota di Gohan, la puliamo, ritogliamo la boccia, la dividiamo in due pezzi, queste due, uno e due, e due pezzi, l'altra metà, e sono quattro pezzi. Facciamo così dai, facciamo così, facciamo all'istarello eh, due, quattro, sali Gohan, e qua sta Gohan, eccolo qua, aspettate che ve lo faccio vedere, ecco, sali, 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 buonissimo, come Gohan? Vuoi un'altra? E sali, eccolo qua. Aspetta, non devi andare, ti piace la carota? mmm, come gli piace la carota, Gohan, non mangi la carota, questa è la carota per Gohan, e qua sta Gohan, eccolo qua, bravo, questa è la carota di Gohan, e qua sta Gohan, bravo, qua ci sono due pezzettini di carota, allora Gohan, vuoi la carota? No, devi saltare, no, e non che poi mi muovi il broccio, devi salire sopra. Aspetta, qua sta l'ultimo pezzetto, sì, anzi, questo facciamo diventare due pezzetti, lo tagliamo in due parti, così, allora Gohan, che cosa fa ora? Eccolo qua, mmm, ti piace la carota? Eh? Oh, le bocce, oh, le bocce, tante pulite, tienila da bocce, quando sono belle pulite, sono lavate, perfette, beh, tieni l'ultimo pezzetto, sali? Bravo! E Gohan vi saluta, al prossimo video, condividete, mettete un like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al nostro canale, Gohan, anzi, il canale di Gohan, Gohan introna, iscrivetevi numerosi, vieni conti, ciao ciao!